Presso la sede del PD qua a Partinico si è svolta l'Assemblea Cittadina. Sono state tante le riflessioni e le tesi che sono venute fuori. Ne parliamo con il segretario cittadino del PD, dottore Gasper Anselmo. Buongiorno a tutti. Quella di oggi è un'assemblea cittadina aperta a chiunque, simpatizzante, iscritto del PD, che vogliono partecipare a questa fase costituente del nuovo Partito Democratico. Una fase costituente importantissima, stimolata sicuramente dalla defaglianza politica di settembre, ma che era proprio nell'anima ed era dentro quelli che erano i discorsi all'interno del Partito Democratico che non riusciva a trovare una sintesi operativa all'interno. Questa riflessione avviata già dal mese di ottobre all'interno del PD verso una fase costituente nuova stiamo quasi nella fase definitiva. Entro i primi di febbraio verranno scelte le due persone che faranno poi le primarie per quanto riguarda la Segreteria Nazionale e poi che faremo giorno 26 di febbraio. In questa fase le riflessioni all'interno dei circoli territoriali sono molto attive, molto forti, perché bisogna lavorare per ricreare anche all'interno una posizione, discussione politica completamente diversa rispetto a prima. Un'analisi viene fatta su quelle che sono le carenze dove il PD è stato assente sicuramente e quindi capire un pochino come recuperare quella parte di cittadinanza, di cittadini, che pur essendo tendenzialmente democratici non vuole votare e non si raccorda con un partito poi chiamato democratico. Qui sono nati oggi delle riflessioni importanti sulla necessità non di coinvolgere i giovani, ma di fare in modo che i giovani possano sentirsi parte attiva all'interno di un'aggregazione politica. E anche le donne? Giovani e donne, sono le due carenze grosse che noi stiamo sobbendo. L'età media di chi partecipa ai vari circoli è piuttosto alta e quindi bisogna sicuramente riformare e ricostituire una componente giovanile all'interno dei gruppi politici che possa dare una vita nuova al partito stesso. Nel corso del dibattito è venuta fuori un'allegoria. È stato detto che bisogna non cambiare i capi, ma bisogna cambiare spartito. Quindi musica, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che serve sicuramente un direttore d'orchestra, ma serve anche un gruppo orchestrale che sia unito e che possa lavorare assieme, dove ognuno abbia un suo ruolo importante e tanti piccoli ruoli diventano poi un'intera orchestra che deve funzionare bene. Significa anche che quelle che sono le idealità di un partito passano dalla fase progettuale alla fase operativa. Quindi quando noi adesso cominciamo a dire abbiamo perso sicuramente quella parte della popolazione più povera, più marginata, che non si è sentita assolutamente rappresentata dal Partito Democratico, ma che non ha trovato altre sponde, perché anche la sinistra non è riuscita a raccogliere questi bisogni della cittadinanza. Quindi c'è una riflessione che la sinistra intera deve fare per capire come rimettersi in modo di essere parte centrale, di essere punto di riferimento delle fasce sociali più debole, delle fasce marginate, delle persone che si sentono al di fuori scartate, come viene chiamato da qualcuno. Quindi sono queste che debbano cominciare a suonare una parte della musica ed avere un direttore che possa ascoltarli per fare una sinfonia completa, buona. È stato anche detto che non bisogna guardare a sinistra, neppure a destra, dove guardare allora? No, bisogna dire, bisogna chiamare Partito Democratico. Cioè il Partito Democratico non è il partito della sinistra che deve lavorare contro la destra. C'è sicuramente un'idealità di destra, ci sono idealità democratiche, dove all'interno del Partito Democratico ci sono e ci sono sempre state l'idea di attenzione particolare per il mondo rimarginato, per i più deboli, per le persone che hanno bisogno di essere attenzionati. E sono quelle persone che noi abbiamo, ci siamo dimenticati di seguire, sono quelle persone che abbiamo abbandonato, quelle persone che non hanno più trovato sponda all'interno di un partito e che forse ha pensato più al ceto medio che non alla parte sinistra. Quindi non c'è stata una grossa forza politica che possa, che abbia portato avanti queste idealità di sinistra. Un'analisi seria ma anche molto critica. Quali saranno i prossimi passi? Ma i prossimi passi sono quelle di vivere quotidianamente, intanto le quotidianità della vita di ogni città, di ogni cittadino. Quindi la presenza politica dentro significa ascoltare quelli che sono i bisogni della gente e cercare di rispondere a questi bisogni stessi. Quindi non essere chiuse dentro il comune, dentro il municipio, dentro un'assemblea del consiglio comunale, ma ascoltare quelli che sono i bisogni, valutare i bisogni stessi, lavorare per risolverli, che è una cosa che ci interessa, che diventa importantissima. Un'assemblea cittadina, un dibattito molto critico, un'analisi seria, è stato lanciato anche un appello che va verso le donne. Che cosa ha sbagliato il PD in questo percorso di Partinico? Dunque, il Partito Democratico che si trova in questo momento in una fase di rifondazione, perché ieri è stato approvato il manifesto verso il 2030, in che cosa ha sbagliato? Credo che la presenza delle donne sia stata non sempre costante. In alcuni momenti della vita politica è stata presente, in altri un po' meno. Dobbiamo pensare anche che questo è avvenuto come conseguenza della pandemia, della crisi in questo momento che si sta vivendo, anche legata alla guerra. E anche al mondo del lavoro, credo. Ecco, alla precarietà del mondo del lavoro. In questo momento, invece, il Partito Democratico che sta ripensando su se stesso, che sta facendo un'attenta analisi a livello nazionale, ma anche lo stiamo facendo a livello locale, vuole mettere al centro, assolutamente, il lavoro precario delle donne. Perché c'è un lavoro non solo nero, ma c'è anche un lavoro sotteso. Ricordiamoci che c'è un problema di lavoro di cura delle donne, alle quali le donne si dedicano in maniera generosa, senza avere un corrispettivo. Mi riferisco al lavoro di cura degli anziani, al lavoro di cura dei disabili, al lavoro di cura anche a volte dei bambini che non trovano, per esempio, nel nostro paese, gli asili nido. Ci vogliono quindi, ci vuole un ripensamento, e questo lo sta facendo il Partito Democratico, sulle politiche sia della famiglia, perché le donne possano veramente ritrovare il tempo per combattere per i loro diritti nei luoghi deputati a questo, cioè nei luoghi del Partito. Quindi noi proseguiremo su questo aspetto per accogliere sempre di più e per stimolare sempre di più la presenza delle donne. Oggi non si può pensare che la politica per le donne o per la famiglia venga fatta dagli uomini. Deve essere fatta da noi donne. Mi scusi, lancio un appello alle donne di Partinico, a tutte quelle splendide donne, per esempio, che si dedicano al volontariato, a quelle donne che lavorano nelle associazioni o nel terzo settore a far parte del Partito Democratico. La Costituente intende proprio aprire il Partito Democratico, vuole, sta rifondando il Partito e vuole che le associazioni, chiede alle associazioni, al terzo settore di fare parte della Costituente. Quindi il mio appello è veramente accorato. Non dobbiamo essere insieme solo in certi momenti della vita, o elettorale, o nei convegni, eccetera. Dobbiamo fare parte del gruppo politico di Partinico. Le donne debbono essere sempre più presenti.